Rompevano tutto ciò che gli si presentava davanti, così due studenti universitari di 24 e 25 anni originari di Rimini e Trieste hanno trascorso la nottata di martedì. Verso le 3 del mattino una pattuglia della squadra volanti della questura di Padova li ha sorpresi passeggiare barcollanti all'altezza di piazzale San Giovanni in centro a Padova con in mano un cartello stradale. Gli agenti li hanno così bloccati scoprendo anche dalla loro confessione gli innumerevoli atti vandalici compiuti, 15 auto in sosta danneggiate, rigate con le chiavi o ammaccate, due segnali stradali divelti, quattro cassonetti rovesciati. I due giovani avrebbero iniziato la loro serata alcolica in un locale in Piazza delle Erbe e poi avrebbero iniziato a compiere la serie di atti vandalici lungo Riviera San Benedetto e le vie Euganea e Cernaia fino ad arrivare in piazzale San Giovanni. Caricati sulla volante per essere portati in questura hanno persino vomitato nell'auto. Sono stati denunciati per danneggiamento e sanzionati per ubriachezza molesta. Non si esclude che siano gli autori di altri episodi analoghi in centro.